salve a tutti ragazzi intanto buon anno nuovo a tutti l'unica stanza dove posso fare un video a quest'ora che non è neanche tardi sono anche le campane tra l'altro sono le 9.01 del mattino ma da me dormono ancora tutti e quindi ho detto devo farla qua per forza sperando che non ci sia troppi rumori da parte delle campane primo video dell'anno oggi mi raccomando state sintonizzate sul canale perché ho tanti video da portare oggi fantacalcio fantacalcio dell'ultima giornata era ancora contro il mio carissimo amico mustang stavolta casa mia ma il risultato non cambia lui sfortunato e io vincente sopravvissuto ancora all'eunuco t-rex vinciamo questa volta di corto muso 2 a 1 2 a 1 stavolta riesce a segnare un gol ora vi mostro comunque la mia formazione la sua la mia panchina e la sua e vi analizzo un attimo allora intanto scelgo il portiere migliore migliore non so parlare scelgo il portiere migliore di gregorio contro il napoli al maradona rete inviolata 8 8 che scelta ragazzi che scelta napoli male nazarri malissimo e quindi detto metto di gregorio anche perché la mia alternativa era megnan megnan con il sassuolo ha detto mi fido mi fido no potevo fidarmi perché anche megnan rete inviolata però 7 e mezzo quel mezzo punto in più sai com'è meglio prenderselo non si sa mai anche lui comunque sceglie il portiere migliore prende scesni rete inviolata quindi ben per lui perché comunque aveva falcone che prende un gol e turate addirittura ne prende tre e il frosinone stava vincendo 1 a 0 quindi sembrava anche un'ottima scelta da poter mettere e invece no perché dopo il frosinone perde male contro la lazio ma ci sta dopo tutto la juve aveva la roma ok partita difficile anche quella però all'allianz stadium dove la roma difficile che vince a torino ci può stare anche che vinca è però è stata la scelta migliore in più so che il mustang lo mette per gufarlo sperando che magari la juve prenda gol vista la sua fede nera azzurra e invece stavolta gli è andata male per quel lato ma gli va male sempre parlando della juve perché lui comunque a costic che a colpo sicuro stava per segnare ma indica ci mette la faccia e evita il gol del serbo e quindi evita un gol in più al mustang e vi dico un gol poteva fare la differenza perché secondo me si avvicinava al punteggio per pareggiare e invece no non arriva il gol di costic arriva sì il gol di chiesa che lui ha titolare ma venne annullato per un fuorigioco perché comunque è un tocco se non mi sono i pellegrini che serve chiesa non sarebbe fuorigioco in teoria però è un'autogiocata perché tipo il pallone viene deviato da un altro compagno quindi involontariamente arriva a chiesa quindi l'hanno annullato per fuorigioco meno male poi mazzarri c'era proprio su mustang con lui e mazzarri risponde non mettendo simeone in campo senza voto gli entra danni motta che prende sei nella stessa partita tra l'altro scusate e in più l'uvumbo sei e mezzo bel voto però niente di che cagliari è in poli se non mi vedrete comunque tutto qui c'è per fortuna l'inter che pareggia quindi ci sono anche i suoi giocatori dell'inter che non vanno benissimo mkhitaryan prende anche il giallo quindi tutto sommato bene e a me segna pulisic e alla fine il gol decisivo sia per il milan sia per il mio fanta perché non ho fatto niente questa settimana sinceramente ho fatto retta in violata di di gregorio l'assist si di gudmanson molto importante e il gol di pulisic purtroppo ho lasciato pereira in panchina ma venitemi voi vi sfido a dirmi che l'udinese batteva 3 a 0 il bologna con un gol di pereira che poi viene anche munito però ho preferito mettere un guendusi contro il frosinone vabbè pereira è già la seconda volta che mi sfugge il suo gol e va bene così dai 2 a 1 poi termina anche la coppa del celiaco il più celiaco della lega è il greg io arrivo secondo arrivo secondo e va bene così il meglio che potevo io l'ho messo in campo poi ci va anche di fortuna devi fare più punti possibili non è sempre così scontato dipende anche dalle scelte dipende dai giocatori dalle giornate io sono contento ho fatto del mio meglio poi c'è chi pensa che arrivare a secondi sia brutto perché è il primo dei perdenti io sì amo vincere però cerco di piazzarmi sempre il meglio possibile vediamo anche la classifica quella della lega lasciate perdere che c'è il celiaco che si è messo 10 punti in più così per protesta ed è primo ma è una cosa falsa lui è ovviamente a 20 punti io sono a 21 sono terzo sono molto contento ho superato comunque walter tengo un po indietro bosco e appunto mustang che con queste due vittorie gli ho veramente dato una pista incredibile spero si possa riprendere terzo io secondo il greg primo e quattro salti in favela se la giocano se la giocano loro due secondo me per la vittoria finale io spero di rimanere almeno terzo mi piacerebbe almeno essere a podio ovvio che io fino alla fine finché la matematica non mi dà la certezza che non arrivo primo io ci provo io ci provo alla prossima sono contro il greg difficile col greg ci ho perso e pareggiato all'ultimo dove stavo vincendo quindi spererei di rosicchiare i punti quindi di vincere assolutamente speriamo bene speriamo bene e niente fatemi sapere la vostra ancora auguroni a tutti ci vediamo tra poco perché dovrò pubblicare altri video a riguardo soprattutto ce n'è uno che sapete benissimo c'entra il fantacalcio con mio fratello mi raccomando guardate anche quel video alla prossima ciao a tutti ragazzi